Abbiamo qui un letto di una fattura molto semplice, senza materasso, con una specie di rete smontabile, qui un altro letto di una fattura un po' più elevata, cosiddetto a spaliera, si conservano i resti di colore di questi pannelli che isolavano il letto, il materasso era qui, distrutto in gran parte purtroppo dai cunicoli degli scavatori clandestini. Poi abbiamo qua due armadi, due piccoli armadi.